Si è sentito bello forte, è stato un colpo perché con quello che sta succedendo in questi giorni non se lo aspettava nessuno. A nemmeno 24 ore dallo scoppio che ha fatto tremare Piazza della Borsa ieri sera l'unica certezza è che non si sia trattata di una ragazzata. L'ordigno fatto esplodere davanti al PAM era una bomba carta. Gli effetti della deflagrazione questa mattina erano sotto gli occhi dell'intera città con i piombini che hanno letteralmente bucato la parte della navata antistante al supermercato e scalfito in maniera importante il vetro antisfondamento del supermercato. Questa mattina tutto è tornato alla normalità con il viavai dei clienti, l'area transennata dalla polizia. Impossibile non fermarsi davanti a quel vetro o vedere i danni che lo scoppio ha fatto anche sul pavimento scalfendo anche quello avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Scossa la comunità con molti trevigiani che oggi sono arrivati sul posto soltanto per constatare con i loro occhi l'accaduto. Ho visto con terrore forse un ritorno agli anni di piombo quando c'erano le esplosioni negli anni 60-70. Spero di no, però sia soltanto... io credo che sia una ragazzata. Di ragazzi che sono in giro perché hanno messo una bomba a carta. Ho stato un attentato vero, qui sarebbe venuto giù il condominio. Questa è una zona buia, va controllata. Sicuramente è una zona in cui si concentrano molto spesso in varie giornate, soprattutto nel fine settimana, tutta una serie di soggetti che creano disordine e confusione. Questa mattina alla riunione in prefettura, la presenza del questore, le indagini sono partite. Ieri sera sul posto sono arrivati gli uomini della Digos, tre patuglie dei vigili e la polizia. La circolazione delle auto è stata interrotta per alcune ore. Questa mattina in prefettura era presente anche il sindaco Mario Conte. Non una bravata, qualcosa di ben più grave, qualcosa che ci preoccupa, ma adesso le forze dell'ordine stanno indagando con la speranza di poter individuare il colpevole. Tutte le piste sono aperte, qualcuno avrebbe potuto intenzionalmente aver voluto colpire proprio il supermercato, ma perché? L'area è video sorvegliata, le telecamere sono attive, H24. Si tengo ad evidenziare come proprio quel quadrante con Piazza Borsa in particolare e via Fiumicelli siano oggetto di pattugliamento costante da parte della polizia locale e di tutte le altre forze dell'ordine. Nel tavolo di sicurezza di questa mattina ho comunque chiesto di incrementare ulteriormente la presenza delle forze dell'ordine da Piazza Borsa alla stazione.